La Presidente Mezzola in visita istituzionale alla Regione Calabria. Drangheta, isola Caporizzuto, arrestate 9 persone, sequestrati 45.000 euro. Dalla Regione un voucher per incentivare i giovani a praticare sport. Torna a Crotone la terza edizione di Musica e Fumetti. Ben ritrovati dalla redazione di Calabria TV. Roberta Mezzola, la Presidente del Parlamento Europeo in Calabria, alla cittadella regionale di Catanzaro, per una visita istituzionale. Per me la risposta è chiara. Io sono qua come Presidente del Parlamento Europeo. Volevo venire al sud d'Italia per fare un appello che i cittadini italiani partecipano nelle elezioni di giugno. Un messaggio per me pro-europeista che vuole che noi per i cinque anni che vengano sceliamo la direzione dell'Europa. Per me, quando dico questo, allora trovare delle soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale, tutto questo, io su questo lavoro molto bene con tutti i deputati italiani, da cui, da quale gruppo politico che vengono. Allora per me non era qualcosa che, penso che è qualcosa che devo dire in più. Come ha detto la Commissione Europea, questo non è qualcosa che cade nella competenza europea, perché è un accordo tra un paese membro e un paese terzo. La cosa che voglio dire è che sull'immigrazione noi dobbiamo, non parliamo con noi stessi solamente, ma anche parliamo con dei paesi terzi, paesi vicini, che possiamo parlare sull'investimento, sullo sviluppo, ma anche sulla discussione degli influssi e dell'aiuto che noi possiamo fare insieme per evitare più perdita di vita nel mare. Io vengo da un'isola pieno centro del Mediterraneo e dieci anni fa il Papa ha detto che il mare Mediterraneo è il più grande gimiterio nel mondo e se noi possiamo fare anche dal sud, e per questo io saluto degli sforzi che sta facendo il governo italiano, per trovare delle soluzioni. Le soluzioni noi abbiamo come leggi, abbiamo cinque proposte legislative che questa settimana a Bruxelles spero che riusciremo a trovare delle maggioranze. Io sono ottimista con cautela, se posso dire così, ma infatti se possiamo anche trovare la possibilità di avere una politica con i nostri vicini, una politica di ritorno che è più efficace, una politica di solidarietà, una politica di protezione, allora penso che possiamo dire ai nostri cittadini quando andiamo al voto giugno prossimo che abbiamo trovato delle soluzioni legislative e anche politiche. Sì, allora su questo lo so che sette paesi europei, incluso l'Italia, hanno scritto con la Commissione per evitare che questa legge che viene rinforzata adesso non trova la possibilità che delle linee marittime evitano delle porte europee del sud che sono importantissimi, non solamente per il commercio del sud, ma anche per i consumatori. Passiamo alla cronaca. I carabinieri della Compagnia di Locri hanno dato esecuzione nel comune di Bovalino e la Mezzia Terme ad alcune ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di cinque persone di età compresa fra i 18 e i 45 anni e appartenenti al medesimo nucleo familiare, accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di ripetuti furti in abitazione, strutture pubbliche o private e ricettazione. I carabinieri della Compagnia di Locri hanno arrestato cinque persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni, appartenenti tutte al medesimo nucleo familiare, accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di ripetuti furti in abitazione, strutture pubbliche e private e di ricettazione. Sono stati i propri ripetuti furti in abitazioni private a far scattare l'allarme, tanto da convincere i carabinieri di Bovalino ad indagare su quella che poi si è rivelata essere una vera e propria organizzazione con base logistica proprio nel comune Regino, che agiva di notte utilizzando autovetture con targhe rubate e quindi non riconducibili a nessuno degli indagati e che prendeva di mira abitazioni solo cosenalmente abitate o attività commerciali e imprenditoriali, all'interno delle quali si introducevano forzando le porte d'ingresso. Spesso, prima di effettuare il colpo, erano soliti effettuare ripetute ricognizioni dei luoghi in modo da non avere sorprese. La merce rubata veniva successivamente messa in vendita anche tramite la pubblicazione di annunci su noti siti di e-commerce o ricettata anche attraverso il convolgimento e la partecipazione di un minore di 18 anni. Una volta identificati, grazie alle telecamere di solverianza, le perquisizioni all'interno delle rispettive abitazioni hanno permesso di trovare e quindi sequestrare i vari strumenti da scasso e i capi di vestiario indossati nei vari episodi di furto. Dei cinque soggetti colpiti dal provvedimento cautelare, tre sono stati imposti agli arresti domiciliari, uno all'obbligo di firma e uno è stato collocato in una struttura ministeriale per minorenni, in quanto aveva meno di 18 anni all'epoca dei reati. 78 migranti sono sbarcati a Crotone con un veliero che è stato condotto in porto dopo essere stato intercettato a circa 3 miglia dalla costa da guardia di finanza e guardia costiera. Sette dei migranti sbarcati sono stati portati nell'ospedale di Crotone con problemi di salute provocati dal freddo intenso patito durante il viaggio dalla Turchia iniziato cinque giorni fa, tra loro anche tre bambini e due ragazzi. Associazioni a delinquere di tipo mafioso, estorsione e danneggiamento falso materiale ideologico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, invasione di terreni ed edifici, furto in abitazione, aggravato e calugna. Reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Con queste accuse sono finiti in carcere nove persone di Isola Caporizzuto e Cotronei alle quali i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale DDA. Minacce e intimidazioni. Si parte sempre da questo modo us operandis. Quando qualcuno, legato alla criminalità organizzata, ha intenzione di mettere le mani su una proprietà non ottenibile attraverso i normali canali di compravendita. Da alcuni di questi episodi sono scaturite le indagini portate avanti dai carabinieri a Isola Caporizzuto e a Cotronei che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, di cui cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari, tra le quali spicca la figura di un soggetto appartenente ad un'andrina denominata Macario, mai censita prima, le cui dinamiche criminali la collocano nell'alveo della più antica e nota Cosca Arena, in virtù di accertati legami di parentela. Attiva a Isola Caporizzuto, in modo quasi esclusivo in un territorio a forte vocazione agricola e turistica denominato località marinella. I reati ipotizzati vanno dall'associazione a derinquere di tipo mafioso, all'estorsione, al danneggiamento, falso materiale ideologico, truffa anche aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, invasione di terreni o ed edifici, furto in abitazione aggravato, calunnia, il tutto aggravato dal cosiddetto metodo mafioso. Gli episodi più acclatanti riguardano la cosiddetta guardiania a strutture turistiche, il tentativo di acquisizione di terreni dati in uso all'ARSAC, la truffa aggravata e continuata ai danni della GEA e del relativo ente regionale erogatore dei contributi, l'ARCEA, mediante la falsificazione della documentazione attestante il possesso o l'uso di terreni agricoli. E proprio a seguito di ciò è stata anche data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di 45 mila euro, frutto delle erogazioni percepite senza titolo. Cambiamo argomento, sport e salute, sport e giovani. È stato firmato alla Cittadella regionale un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria. è il presidente della società di Stato Sport e Salute Marco Mezzaroma, con l'obiettivo di incentivare la partecipazione attiva dei giovani calabresi di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Sì, della necessità di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva si parla spesso. Tutti quanti ne conosciamo l'importanza. Non sempre le istituzioni sono conseguenti rispetto alle affermazioni di principio. Sono molto felice invece di questa iniziativa che la vicepresidente Princi ha inteso sviluppare per investire 800 milioni rinvenienti dal Fondo per le politiche giovanili da destinare alle famiglie che non avrebbero la possibilità di garantire ai loro figli il diritto allo sport, alla pratica sportiva, attraverso l'iscrizione, per esempio, a palestre o ad associazioni sportive. Sono molto felice anche del supporto che Sport e Salute darà a questa iniziativa. Sono molto felice di osservare in Regione il presidente Mezzaroma che sta dando grande impulso a Sport e Salute coinvolgendo anche gli organismi che si occupano di promozione sportiva. Oggi ci sono molti di questi organismi, molte di queste associazioni. È un modello virtuoso di impegno per garantire il diritto allo sport attraverso le istituzioni che le finanziano, un'organizzazione importante come Sport e Salute che coordina, offre supporto e l'impegno in termini di sussidiarietà delle organizzazioni sportive che poi devono essere le vere protagoniste di questi processi. Io oggi sono particolarmente felice di essere qui anche perché quello che andremo a firmare con la Calabria è il protocollo d'intesa è il primo protocollo che firmeremo con una Regione del Sud. Questo mi fa particolarmente felice. Tra l'altro con la Regione Calabria e con l'amministrazione attuale c'è un rapporto consolidato che si sta sviluppando in vari settori, in vari canali, sulla scuola e sullo sport inclusivo. Questo progetto in particolare per il quale faccio i complimenti al Presidente e al Vicepresidente è un progetto in base al quale Sport e Salute metterà a terra questi finanziamenti messi a disposizione della Regione Calabria. Sostanzialmente si configurerà in voucher che verranno dati a persone che naturalmente avranno i requisiti previsti in una fascia di età particolare dai 14 ai 24 e con questi voucher gratuitamente potranno avere possibilità di praticare sport nelle strutture, associazioni, società sportive che verranno convenzionate. Quindi mi sembra il futuro dello sport sociale, penso vada in questa direzione e faccio i complimenti ripeto al Presidente e al Vicepresidente per aver avuto questa idea che sicuramente andrà replicata. L'obiettivo della misura è proprio favorire l'inclusione sociale, quindi l'aggregazione relazionale accompagnando i giovani a superare le fragilità psicologiche dopo il Covid. Sono risorse importanti, 800 mila euro in questa prima fase che andremo ad incrementare con ulteriori risorse che abbassando quella che è la fascia di riferimento. In questa prima fase coinvolgeremo una fascia giovanile dai 14 ai 24 anni, con la seconda tranche abbracceremo la fascia 6 ai 13 anni. Per cui è un'importante misura che per la prima volta ha voluto la Regione di Calabria con il nostro Presidente Occhiuto e che grazie appunto a Sport e Salute stiamo sviluppando per accompagnare sempre di più i giovani ad accedere alla pratica sportiva e quindi a fortificarsi caratterialmente. Il centro storico ha bisogno di essere scoperto, anzi riscoperto a piccoli passi. Continuano le uscite domenicali a Crotone. Occhiali da turista della propria città per il trentesimo giro nel centro storico di Crotone. Dopo i primi appuntamenti, l'evento mensile e domenicale riscuota ancora successo, anzi di più, tra quei crotonesi che vogliono scoprire le diverse particolarità che questa zona antica della città offre. Come sempre il tour è proposto dalla Fondazione Santa Critelli di Antonio Arcuri e Gianluca Prefacente e questa volta una particolarità, ovvero la visita al Museo Privato di Palazzo Giunti dove ad aprire le porte l'Avvocato Silvano Cavarretta. Senta, per molti anni il centro storico di Crotone sembrava abbandonato, oggi invece vi è una riscoperta di questa zona storica della città, ma cos'è che trae ancora? Abbiamo attuato una piccola rivoluzione culturale con una finalità ben specifica, insieme al signor Arcuri e con la Fondazione Onlus Santa Critelli. La nostra mission è di riaccendere i riflettori sul centro storico e pare che siamo sulla buona strada, considerando tutte quelle che sono le iniziative e non solo le nostre, quella che è la partecipazione dei nostri concittadini. Il nostro centro storico è meraviglioso, è assolutamente necessario rivalutarlo e valorizzarlo per quanto merita. Cosa c'è ancora da scoprire? Da scoprire in realtà c'è tantissimo ancora, da riscoprire direi, perché il centro storico è ricco di architetture, ricco di simboli, ricco di chiese, ricche di tante cose meravigliose che ancora sono poco note e poco valorizzate purtroppo. Cosa affascina di questo museo privato di Palazzo Giugno? Ma è un museo privato dell'Avvocato Cavarret che in tanti anni ha raccolto tantissimi reperti di varie zone del mondo. Lo consiglio di visitarlo anche a chi non verrà oggi a guardarlo. Si parla in questi giorni molto di antica Croton, anzi direi da tanti anni, ma in questi tour nel centro storico quante età della città di Crotone abbiamo scoperto e magari non lo sappiamo? Ma gli affassionati e gli studiosi ne hanno trovati tutti i livelli, cioè dal periodo Magno Greco fino al periodo dell'Alto Medioevo. Speriamo, come ci è stato preannunciato, che gli scavi cominceranno nell'immediato per poter dare la possibilità ai crotonesi e non di visitare tante e tante zone belle di Crotone. Presentato a Vibo Valenzio un libro che vorrebbe riscrivere un travagliato periodo storico della città di Monte Leone, l'odierna Vibo Valenzia, basato su documenti legali dell'epoca. Di particolare interesse storico l'ultima pubblicazione realizzata dal Cristallo Edizioni. Si tratta del lavoro di Raniero Pacetti, Fragmenta, Intrigo di potere in Monte Leone, presentato ufficialmente nelle sale CEV di Palazzo Gagliardi alla presenza di un folto pubblico che ha grimito completamente la sala potendo ascoltare storici del calibro di Giuseppe Caridi, presidente della deputazione di Storia Padre per la Calabria, Francesco Campennì, docente di storia l'unica, la foca accetta. Raniero Pacetti, da fiero calabrese ed orgoglioso vibonese, ha approfondito da appassionato bibliofino, quando egli è tra i più accreditati, gli studi sulla Calabria ed in particolare sulla sua città, Vibo Valencia. Potendo attingere direttamente ai documenti dell'epoca, ha ricostruito una fase storica tra le più complesse dibattute che ancora oggi appassiona i vibonesi veraci, il contenzioso tra i cittadini di Monte Leone e la famiglia Pignatelli. Sulle modalità di acquisizione di Monte Leone da parte dei Pignatelli vi sono opinioni discordanti tra gli storici e questo libro, già in vendita nelle principali librerie della città ed anche online, ripercorre nei particolari la vicenda giudiziaria sulla scorta di testi e documenti originali recentemente rintrecciati proprio da Raniero Pacetti. Questo comincia con l'acquisto di due memorie legali molto rare, due libri che riguardano la causa relativa al contenzioso tra i Pignatelli e l'Università di Monte Leone, che sono veramente determinanti per la conoscenza della storia della città. Le memorie difensive riguardano una causa durata 35 anni in cui i monteleonesi rivendicano il loro diritto di mantenersi città libera, mentre invece i Pignatelli naturalmente ribadiscono la leicità del loro feudo motivandolo con il possesso da 300 anni. Quindi è una dicotomia importantissima da risolvere, per cui mi auguro che il libro porti poi ad un nuovo processo nella città di Vipo Valenza per decidere finalmente le ragioni alla bassa della loro rivendicazione di Monteleone città libera e quindi ricostruire in parte anche, rivisitare e reinterpretare quella che alla luce delle nuove acquisizioni e arrivare ad una definizione di quella che è la realtà storica. I Fumetti, un mondo che conquista grandi e piccoli. A Crotone, presso la Casa della Cultura, la terza edizione della Kermes Musiche e Fumetti. Se qualcuno pensa che il fumetto sia morto, si sbaglia. La carta colorata che prende vita con storie di personaggi ormai entrati nell'immaginario collettivo è viva più che mai. È tornata a Crotone, presso la Casa della Cultura, la terza edizione della Kermes Musiche e Fumetti, stagione concertistica all'era della Magna Grecia, che vede l'organizzazione della società Beethoven-Akam, scuole e appassionati di fumetto, presso la Casa della Cultura. Le chiedo qual è lo stato di salute del fumetto in Italia? È lo stato di salute del fumetto in Italia come tutte le editorie che riguardano i libri e la letteratura. Non credo che sia proprio floridissimo. Certo resiste, però non credo che sia. Non è certo quello lo stato degli anni 80, degli anni 70, dove si leggeva tantissimo. Dove testate come Topolino, l'intrepido, vendivano anche 5-600 mila copie alla settimana. Non credo che siamo più a quei livelli, purtroppo. Quanto riguarda invece i disegnatori dei fumetti, secondo lei oggi c'è un ricambio generazionale? Il ricambio generazionale c'è sempre stato, però il fumetto è una cosa che ha dei canoni ben precisi, non è che lo si può rivoluzionare completamente. C'è sicuramente un ricambio generazionale, c'è sicuramente disegnatori che portano cose nuove. Però non sempre il mercato è capace di recepire le novità, perché le novità di solito vengono recepite quando vengono dalle grandi aziende. Se vengono invece da aziende magari più piccole o aziende che magari sono collocate in altri settori, vengono recepite con più fatica. E secondo lei, in conclusione, le chiedo qual è il personaggio che resiste magari oltre Tex? Io credo che forse il personaggio che resiste sia Topolino in Italia insieme a Tex e in parte anche a Asterix. Sono questi personaggi che resistono al tempo. Forse i supereroi invece sono un po' scaduti. Lo stesso Diabolic che pur resistendo non credo abbia più gli appassionati di un tempo. Dylan Dogg è sceso in maniera abbastanza repentina, però secondo me gli autori molto bravi avevano fatto un errore, lo avevano contestalizzato negli anni Ottanta, quindi poi passarlo all'epoca di oggi è poco credibile. Dylan Dogg oggi dovrebbe avere più di 70 anni e non potrebbe essere più un giovane, non potrebbe essere più uno che... Quindi secondo me forse per rivitalizzarlo lo dovrebbero riportare all'epoca degli anni Ottanta come un fumetto un po' vintage, fra virgolette, però più credibile, perché non è credibile che Dylan Dogg nel 2024 possa essere ancora giovane, no? Diciamo che sta crescendo, ecco, il fumetto in Italia. In libreria ancora soffre, insomma, non è molto seguito. Vendono soprattutto i fumetti manga e va benissimo. Non riescono a diffondersi come meriterebbero per il valore che esprimono, intendo. In conclusione le chiedo, lei in quale personaggio in tutti questi anni si è rispecchiato di più? Lupo Alberto. Lupo Alberto, che è questo lupo innamorato della gallina Marta e mia moglie si chiama Marta, infatti, e io mi chiamo Alberto. Dal 7 dicembre a Locri nel Regino torna l'evento natalizio più atteso dell'anno, giunto alla decima edizione. Il tanto atteso Locri Unice è pronto ad aprire le porte anche per il 2023 con un calendario come sempre ricco di appuntamenti. La location è sempre la stessa, piazza dei martiri completamente coperta, mercatini natalizi, locali cittadini già pronti ad offrire il massimo dei servizi all'interno di una struttura confortevole e appositamente ideata per ospitare tutti gli eventi previsti. Locri Unice, un contenitore multi-eventi che riacchiude al suo interno attività trasversali per bambini, giovani e adulti, non tralasciando anche l'aspetto sociale. Oggi presentazione dell'evento in conferenza stampa. Eh sì, parte la decima edizione giorno 7 di Locri Unice, siamo soddisfatti di questa storicità che ormai ha assunto la manifestazione, manifestazione richiesta dai cittadini, dai bambini e che vedrà come al solito Locri Unice essere un grande contenitore, un grande contenitore di musica, di spettacoli, di spettacoli per bambini, di street food, di pista di pattinaggio ma soprattutto anche di sociale. Abbiamo una sfida che è quella dell'inclusione sociale e la vogliamo vincere e la vogliamo vincere anche attraverso queste manifestazioni. Quindi avremo la fortuna di avere in piazza diverse associazioni, avremo la fortuna di avere per esempio l'associazione Angela Serra che sta portando avanti quel progetto Nole molto importante per il rifacimento del reparto di oncologia dell'ospedale di Locri e approfitto dell'occasione anche per ringraziare la promessa mantenuta dal Presidente Occhiuto e dall'assessore Giovanni Calabrese per il contributo di 500 mila euro che è stato destinato proprio al progetto Nole. Allora, novità sostanziale è rappresentata dall'ingresso in Locri Unice di Massimo Cusato e del suo festival ai confini del sud. Avremo il piacere e l'onore di ospitare in città concerti di Mario Venuti, di Sergio Caputo, dei Terra Ros che abbiamo già avuto quest'estate alla Fondazione Zappia e lo stesso Massimo Cusato che aprirà Locron Ice giorno 7. Concludiamo con una notizia di basket. Continua la scia vincente della Viola Basket che batte anche Piazza Armerina. La palla canestro a Viola vince ancora, coinvolge pubblico e città e sorride, soddisfatta per aver abbattuto la corazzata Siez-Piazza Armerina. Tornando così in vetta al torneo accanto la Virtus Ragusa, vincente nella sfida in casa contro Rende e dell'Orlandina che non riesce a domare il fattore campo del Barcellona. Partita strepitosa, così come non si viveva da anni al Palac alla Fiore, sempre più coinvolto grazie alla presenza di numerose famiglie sportive e tanti bambini, con delegazioni arrivate dalle scuole basket di Pizzo e Vibo Valencia. Coach Cigarini sorprende, mandando in campo il regino russo dal primo minuto. La Siez deve ancora fare meno del fortissimo Mirko Gloria. Gara palpitante ed equilibratissima. Aguzzoli è l'uomo migliore nella prima parte di gara con un attento lavoro in attacco in difesa. Reggio vola avanti di 6. Coach Diamante chiama time out e raddrizza la situazione. Il primo periodo termina 24-26 per gli ospiti. Tanto equilibrio nel secondo periodo. La Siez dimostra di essere un osso duro da superare. Reggio con l'aiuto del pubblico finalizza con Tirtischnik su tutti e trae ottime soluzioni in difesa ed in attacco da Sek e Maveric. Un punto di vantaggio per i locali all'intervallo lungo. Stessa musica anche nel terzo periodo. Un vero e proprio combattimento cestistico. Tanti uno contro uno vincenti per Marco Laganà mentre cresce minuto dopo minuto l'impatto dell'ottimo Musikic. Belle le schiacciate di Sek e Aguzzoli per la Viola. Lo staff tecnico nero-arancio perde Ilario Simonetti per raggiunto limite dei falli. Batti e ribatti anche nel quarto periodo. Laganà e Giampieri per la Siez. Aguzzoli, Maveric e Tirtischnik per la Viola tengono botta. Emin Maveric esalta il pubblico con una stoppata da Cineteca. Sarà ancora una volta il LIA-Tirtischnik a fermare il break determinante. Fondamentale la recuperata di Omar Sek. La Siez perde la gana per cinque falli ma i giochi ormai sono già fatti. Finisce con il risultato di Pallacanestro Viola, Siez, Piazza Armerina, 88 a 79. Termina qui la nostra informazione e grazie per averci prestato ascolto. Vi lascio ora con le notizie dell'Italia e del mondo e poi le previsioni del tempo. Lutto e tanta commozione oggi a Padova dove migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Gremita la Basilica di Santa Giustina, più di 8.000 persone hanno seguito l'ese qui e fuori dalla chiesa dove erano stati installati due maxischermi. Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, si è rivolto ai giovani durante l'omelia. Potete amare meglio e di più. Poi le parole del padre della giovane. Che la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme contro la violenza che la sua morte sia la spinta per cambiare. Un lungo applauso ha accolto la fine del saluto che Gino Cecchettin ha fatto al termine del funerale della figlia. Con lui in chiesa per l'ultimo saluto a Giulia, gli altri due figli Elena e Davide. La guerra in Medio Oriente è giunta al 60esimo giorno e prosegue l'offensiva di Israele nella striscia di Gaza con l'impiego di numerosi carri armati soprattutto al sud. Secondo l'esercito israeliano almeno 15.000 palestinesi sono morti durante i combattimenti dal 7 ottobre di cui circa 5.000 sono militanti di Hamas. Le autorità palestinesi precisano che il 70% delle vittime sono donne e bambini. Per l'ONU la situazione a Gaza è apocalittica. Troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza, ha detto il consigliere per la sicurezza americano Jake Sullivan. Ma secondo il portavoce dell'esercito israeliano il rapporto di due civili palestinesi morti nella striscia per ogni militante di Hamas ucciso è tremendamente positivo, date le sfide del combattimento urbano. A stenzione dal lavoro oggi del personale sanitario per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di categoria Nao Assomed, Cimo Fesmet e Nartingap, secondo cui la protesta ha raggiunto l'85% delle adesioni. Circa un milione e mezzo le prestazioni sanitarie saltate tra esami di laboratorio, interventi chirurgici, visite specialistiche ed esami radiografici garantite le prestazioni d'urgenza. Medici, dirigenti sanitari, infermieri e ostetriche di tutta Italia sono scesi in piazza alla manifestazione più grande in piazza Santi Apostoli a Roma. La sanità pubblica non si vende ma si difende la parola d'ordine nelle piazze italiane. Almeno sei le ragioni della protesta. Assunzioni di personale, detastazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e individuazione di un'area contrattuale autonoma per gli infermieri. Nel 2023 in Italia quasi 430.000 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria e hanno dovuto chiedere aiuto a una delle realtà assistenziali convenzionate con Banco farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure. Un dato che secondo l'undicesimo rapporto Donare per curare, povertà sanitaria e donazione farmaci è aumentato del 10% rispetto allo scorso anno quando le persone in situazione di povertà sanitaria erano state 386.000. L'inflazione nella zona OX è scesa al 5,6% a ottobre dopo il 6,2 di settembre. Il livello più basso di inflazione mai registrato da ottobre 2021. Quanto all'Italia, l'organizzazione registra il tasso di inflazione più basso tra i paesi del G7, passando dal 5,3 di settembre all'1,7 di ottobre. Intanto, secondo il rapporto Istat-Prospettive per l'economia italiana, nel prossimo biennio la domanda interna che spingerà la crescita economica italiana sarà trainata principalmente dai consumi privati sostenuti dalla decelerazione dell'inflazione, da un graduale recupero delle retribuzioni e dalla crescita dell'occupazione. Nel 2023 il PIL del mezzogiorno dovrebbe crescere dello 0,4%, mentre il centro-nord dovrebbe registrare una crescita doppia, quanto emerge dal rapporto Zvimez, nel quale si ricorda che la crescita a livello nazionale è attesa a più 0,7%. Si riapre così il divario di crescita tra i territori, dopo un biennio di allineamento a causa del diverso andamento dei consumi. La contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali è doppia rispetto al centro-nord. A preoccupare anche la fuga dei giovani e il lavoro povero. In meno di 20 anni, 800.000 under 35 sono andati via. Nel 2080 si dimezzerà la popolazione giovanile.